Dallo Stadio Olimpico di Roma, vi presentiamo la coppia d'attacco Giuseppe Canigo di Cerellandone, partite per una partita alle vettacce con due campioni di caccia. Ma due campioni, uno campione. Quando due fanno a caccia la merce è schiena, sempre Marche nel Monte Bianco e qua via il Tredino. Agli amici nostri, Francesco Lottoverde, che è andato a Bologna a divertirsi e Danilo Bavoso, Petro Bavoso, delle forti pade, che butta, vi mostriamo la merce abbattuta stamattina. Guardate che li allargo, non lo sappiate che sono tre, perché come vedete sono una, due, tre, quattro e cinque. Dopodiché abbiamo il Tredino a Tredino a mano, ce ne andiamo e facciamo riposare, perché ci siamo stufati. Così domani mattina abbiamo ancora un'altra giornata di calcio. No, se l'abbiamo ammazzata tutte oggi, se c'è una c'è. Niente, Francesco, allora... Ti ringrazio per il tuo consiglio, che è la tredino di sera, di andare a Castellaci. Ma come vedete, li abbiamo ammazzati al fiume di Serie Superiore. Spero che alla prossima occasione ci sarà il tuo campione Max. Io lo so. E se no li ammazziamo con i nostri campioni. No, con i nostri secchi di pulici. Con i nostri secchi di pulici che fermano i meroli. Siccome i nostri cani fermano i meroli. Allora adesso ti mandiamo i video. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un bacione. E Antonio. Striccia. Bisogna. Bisogna.